Un anno ad Esapolis. Si è concluso il progetto per le attività museali di tre volontarie del Corpo Europeo di Solidarietà. I musei sono andati in sofferenza durante questi mesi ed era scontato e prevedibile. E' una sofferenza che si sta protraendo perché è difficile anche la ripresa. Noi stiamo andando a regime, stiamo riaprendo un po' alla volta tutti i musei della provincia di Padova e oggi siamo qui ad Esapolis e l'apertura cade proprio in questa giornata. Sarà una riapertura che porterà sicuramente delle ferite e dei dolori, ma noi siamo forti e guardiamo avanti. Anche in questo ambito ci siamo resi conto e abbiamo visto quanto forte sia il volontariato e quanto importante sia il volontariato e spesso il volontariato arriva dove le istituzioni non arrivano. E l'esperienza di questo progetto con queste tre giovani provenienti da tre paesi, Russia, Germania e Spagna, hanno dato un valore aggiunto, un contributo molto importante nella vita di Esapolis, non soltanto nella vita di questo anno passato insieme, ma anche nella vita futura e a loro volta esporteranno nei loro paesi le esperienze vissute qui. Quindi è stata un'esperienza sicuramente fortunata, un'esperienza virtuosa che porteremo come modello. Quando nascono questi progetti la cosa più bella è proprio il fatto che ci rimane un rapporto umano straordinario che porta benefici a entrambi, cioè al volontario che è noi, perché noi impariamo a muoverci in questo mondo del volontariato e loro imparano tante cose che altrimenti richiederebbero anni di studio, di perfezionamento. Cosa rimane? Rimangono veramente tante cose. Intanto un grazie perché durante il periodo di chiusura del Covid queste ragazze, queste signore ci hanno permesso di tenere in vita un sacco di specie animali, di curarle quando era veramente molto difficile. Sapete perché? Perché il Covid ha chiuso tutto. E poi per tutta la comunicazione che è stata fatta grazie a loro e la ricerca scientifica che hanno coadiuvato, tanto che verranno fatte delle pubblicazioni anche grazie a loro sui bacchi da seta, sul mondo degli insetti e delle pubblicazioni scientifiche, oltre che la nuova guida del museo e dei musei che sarà fatta attraverso un'app, sarà grazie al lavoro fatto in gran parte anche da loro perché hanno sviluppato i testi non solo in italiano ma anche in altre lingue come russo, inglese e le loro lingue originarie. Ricordiamo che vengono una dalla Spagna, una dalla Germania e una dalla Russia. E quindi già solo questo è un lavoro immenso e noi ci siamo molto grati perché ci consente di diventare sempre più internazionali, sempre più in grado di parlare la lingua europea, sempre più in grado di essere accoglienti e di essere accolti. Grazie a tutti.